Da lunedì 19 novembre i quasi 400 alunni della scuola media Dante Alighieri non possono più uscire da scuola autonomamente. La dirigente ha emanato un provvedimento che obbliga le famiglie o persone titolate a farlo a venire fuori dalla scuola a prenderli di persona. Questa scelta ha generato una serie di polemiche a catena, soprattutto tra i genitori degli alunni, ma la preside Laura Cascianini si difende. La legge che sottintende questo provvedimento è il codice penale. L'aumentata sensibilità della scuola nel corso degli ultimi anni è stata più volte sollecitata anche da altri dispositivi giuridici. Primo fra tutti quello dell'Avvocatura dello Stato. Di fatto, racconta ancora la preside, il primo ottobre l'Istituto Castiglionese ha ricevuto il parere dell'Avvocatura dello Stato che imponeva la sospensione delle liberatorie delle famiglie stoppando l'uscita autonoma degli alunni dalla scuola. E la stessa dirigente ricorda di aver atteso fino al 19 novembre per mettere in pratica il provvedimento, lasciando dunque alle famiglie il tempo di organizzarsi per venire a prendere i figli. Questo ha comportato da parte mia l'attivazione di una serie di percorsi necessari che hanno prodotto oltretutto anche un'assunzione di responsabilità piena a carico mio perché siamo al 20 di novembre e l'iniziativa è partita solo ieri, un percorso che mi ha consentito di far sì che ieri, giorno X come è stato definito sulla stampa, tutto sommato non ci fosse quella calca e quella ressa ipotizzata. Ma comunque la dirigente Cascianini lancia un messaggio ai genitori che sono ancora sul piede di guerra per questa sua decisione. È chiaro che io in questo momento vorrei dedicare le mie energie proprio a quei casi che non possono essere diversamente risolti. Preciso che questa mia messa a disposizione è doverosa e sarò in prima fila per cercare di risolvere delle situazioni. D'altronde il mio primo comunicato alle famiglie era proprio un invito a chi avesse dei problemi cogenti, effettivi e non risolvibili con l'istituto delle deleghe è pregato di farsi avanti e di venire al mio ufficio. In molti sono venuti, con la maggior parte di essi abbiamo trovato delle soluzioni. Quello che non condivido è la polemica sterile ed è soprattutto la strumentalizzazione di principi come quello dell'autonomia che spesso sono cavalcati da chi invece dovrebbe farsi carico di un impegno maggiore. Grazie a tutti.